Ciao a tutti e bentornati a una nuova lezione di basso in pillole, io sono Luca Angelici per maggiori informazioni su di me www.angeliciluca.com Oggi parleremo e parlerò di improvvisazione modale detta così può sembrare un termine assolutamente astruso e di difficile comprensione soprattutto per chi magari ha delle basi ancora non solide con l'armonizzazione delle scale e con gli accordi relativi e con i modi ma vedrete che grazie a I Will Survive di Gloria Greynor anche questo brano e anche questo modo di suonare ci risulterà sicuramente più semplice e più immediato ok, allora andiamo subito al lato pratico per effettuare questa lezione dobbiamo aver già assimilato in maniera molto chiara i modi, le armonizzazioni della scala maggiore e quindi i gradi relativi ai modi, i nomi dei modi e tutti gli accordi relativi che si presentano nel momento in cui armonizzo una scala maggiore quindi tutte le estensioni naturalmente se avete dei dubbi ancora su questo tipo di argomento potete andare a recuperare delle lezioni che ho già fatto dove appunto spiego i modi e tutto quello che ho appena detto quindi andiamo proprio al lato pratico passiamo a I Will Survive di Gloria Greynor come avevo detto prima è un brano che ci consente di esercitarci con l'improvvisazione modale perché è un brano che è completamente costruito sugli accordi relativi all'armonizzazione della scala maggiore di do quindi un'armonizzazione tra l'altro abbastanza semplice che non presenta alterazioni in chiave andiamo proprio a vedere gli accordi nello specifico per come si presentano nel brano e per come poi appunto noi troveremo nella base che ho preparato perché non posso utilizzare il file originale per ovvi motivi di copyright ok allora vediamo proprio gli accordi per come si presentano primo accordo La minore settima il La minore settimo è il sesto accordo che si presenta sempre relativo all'armonizzazione della scala maggiore di do ed è il modo eolio secondo accordo Re minore settima modo dorico terzo accordo, parlo sempre della successione per cui si presentano terzo accordo Sol settima modo misolidio quarto accordo Do delta o Do maggiore settimo modo ionico quinto accordo Fa delto o Fa maggiore settimo modo lidio sesto accordo Si minore settima bemolle quinto Si semi diminuito parliamo del settimo modo modo locrio gli ultimi due accordi sarebbero un Mi sus e un Mi maggiore che sarebbero al di fuori dell'armonizzazione della scala in quanto dovremmo avere un Mi minore settima ma forziamo la scala e applichiamo un modo frigio soprattutto nella prima parte Mi sus perché non presentando alterazioni quindi non avendo il terzo grado ci consente di essere un po' più liberi in fase di fraseggio quindi questi sono gli accordi per come si presentano andiamo a vedere nello specifico l'esercizio che vi consiglio l'esercizio è molto semplice apprendiamo ogni accordo per come ve l'ho spiegato e per come ve l'ho citato e suoniamo la scala relativa, quindi il modulo relativo all'accordo nel momento esatto in cui si presenta faccio un esempio La minore settimo, sesto, abbiamo detto sesto modo, modo e olio quindi appliciamo il modo e olio al La minore settima secondo accordo Re minore settima, modo dorico appliciamo il modo dorico al Re minore settima terzo accordo Sol settima, modo Mi solidio e applichiamo la scala, diciamo Mi solidio al Sol settima quarto accordo Do maggiore settima, modo ionico quinto accordo Fa, delta, modo linio sesto accordo Si, semi diunito, modo locrio ultimo accordo abbiamo detto Mi sus, Mi maggiore, ma comunque suoniamo il frigio e poi ricominciamo da capo l'esercizio l'obiettivo qual è cercare di dare una fluidità praticamente all'esecuzione delle scale nel momento in cui cambiano gli accordo quindi abituarci ad applicare una scala all'accordo e al campo di accordi sfruttando appunto i modi vi faccio sentire la base che ho preparato e da lì poi farò un giro per farvi capire come poter sviluppare l'esercizio e da lì poi farò un giro per farvi capire come poter sviluppare l'esercizio ok, la base prosegue come potete vedere ho fatto altro che applicare appunto i modi nella successione in cui il brano mi presenta gli accordi e suonare le scale relative al modo naturalmente suonato in questo contesto diventa proprio un esercizio anche abbastanza diciamo scolastico, quindi poco musicale possiamo prevedere delle variazioni quindi, come vi avevo detto, possiamo prevedere una variazione del tipo nel primo accordo mi muovo dal primo all'ottavo grado quindi all'ottavo successivo dal primo al settimo quindi compesa l'ottava due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto magari nel secondo accordo posso prevedere il movimento contrario quindi dall'ottavo al primo grado dal primo all'otto dall'otto all'uno dal primo all'otto dall'otto all'uno dal primo all'otto dall'otto all'uno scusate quindi in questo caso faccio una sequenza di praticamente up and down quindi mi muovo in maniera positiva, in maniera negativa creando una sorta di sinusoide praticamente al mio andamento melodico questo è in linea di massimo quello che può accadere nella realizzazione di un solo naturalmente adesso stiamo applicando le scale nella maniera ritmica e nella maniera diciamo più immediata possibile quindi facendo proprio una variazione minima rispetto al tempo ma giocando con gli accenti ritmici e muovendoci sugli accordi abbiamo già una buona diciamo padronanza delle scale relative agli accordi che ci potrebbe aiutare nella realizzazione di un solo un'altra variazione che noi possiamo fare all'esercizio è quella naturalmente di applicare le scale nella parte superiore del manico ovvero cerchiamo di estendere le scale diciamo concentrandoci più sulla parte dove il registro del basso è più acuto quindi abbiamo un suono più brillante faccio vedere a cosa mi riferisco la minore settima la minore settima sol mi solidio do ionico semplici scale di do maggiore praticamente in questo caso sto suonando il frammento della scala lidia praticamente partendo dal quinto grado quinto, quarto, lidio terzo, secondo, primo sull'accordo di fa proseguo poi si e l'occhio e poi torno al mi frigio facendo così che cosa ho fatto? ho spostato praticamente la scala dal da la partendo dal quinto tasto sull'accordo di mi cercando di andare a suonare in questo registro in modo da dare una sensazione melodica più vicina a una fase solistica quindi a una fase, a una, diciamo, liricità del suono più adatta a una parte solista naturalmente appunto questo brano e questo tipo di sequenza di accordi ci consente appunto di esercitarci nella maniera più costante possibile senza nemmeno ricadere nella noia di dire dove applico questi accordi a quale canzone posso applicare le scale perché uno dei problemi qui io magari studio le scale e scudo gli accordi ma poi non riesco mai a mettere in pratica o a capire dove poter utilizzare queste cose questo è sempre un brano guida, un esempio molto pratico per cui se non domani ci dovessimo trovare a fare un solo su I will survive sappiamo già che possiamo applicare tutti gli accordi relativi all'armonizzazione della scala maggiore di Do ultimo esercizio che vi consiglio è quello di fare una volta che avete un po' sviluppato la praticità quindi siete un attimino più allenati di fare le scale in maniera up and down quindi in andata e in ritorno sostanzialmente partendo, mantenendo sempre un accordo alla volta vi faccio capire che cosa intendo facciamo praticamente lo stesso tipo di esercizio quindi però sviluppiamo tutta la scala sempre un accordo alla volta e ci esercitiamo a sviluppare le scale in maniera più veloce rimanendo concentrati sull'accordo che stiamo analizzando di volta in volta naturalmente in questo caso io sto utilizzando una base che ho ricostruito utilizzando un programma per telefono o per tablet che si chiama Ireal B che mi consente di poter naturalmente abbassare la velocità tenete presente che la velocità del brano originale sia intorno ai 115-120 di metrano adesso non posso dire con esattezza e in questo caso io sto lavorando intorno ai 100 quindi comunque se volete potete provare a scaricarlo o acquistate la costa una decina di euro secondo me comunque è un'applicazione molto valida che ci consente di poterci esercitare su molti brani e su molti diciamo pattern perché ci sono proprio diversi esercizi proprio per chi si vuole allenare con sequenza armonico o altre cose quindi facciamo solo un breve riepilogo come faccio ogni volta a fine lezione abbiamo visto I will survive applicando praticamente tutte le scale relative all'armonizzazione degli accordi in questo caso I will survive è un brano che è in tonalità di La minore ma come sapete la relativa è Do maggiore e quindi tutti gli accordi relativi all'armonizzazione della scala di Do maggiore che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni si presentano in questo brano quindi questo brano ci consente di poter esercitarci su tutti i modi relativi all'armonizzazione della scala maggiore di Do detto questo è tutto non mi resta che salutarvi augurati buono studio e alla prossima lezione di Bassi Impiglione e ciao a tutti Luca